Ciao a tutti amici di youtube, io sono Travater91 e oggi si torna a parlare di un film d'animazione in particolare di un film della Pixar a quasi esattamente un anno di distanza dall'uscita del precedente film di questo studio che era stato Elemental, stavolta però non parliamo di un film originale ma di un sequel, il primo di una serie di sequel di film d'animazione sia Pixar che Disney che erano stati annunciati da Bob Iger nel tentativo di recuperare le perdite finanziarie che l'azienda sta subendo nell'ultimo periodo e quindi appunto oggi parliamo di Inside Out 2, sequel ovviamente di Inside Out, film quest'ultimo del 2015 diretto, quel primo film intendo, da Pete Docter, un film che oltre ad avere un grandissimo successo commerciale è anche uno dei film più amati della Pixar del periodo post Toy Story 3 e io stesso lo reputo il miglior film Pixar nel periodo post Toy Story 3, per me la triade è composta da a salire Luca, Coco e Inside Out, oddio Coco non lo rivedo da un po' quindi non so se magari si scambierebbe con Luca, però questa è la triade secondo me migliore appunto del post Toy Story 3 e appunto era stato annunciato il sequel Inside Out 2 che diciamocelo su carta è uno dei seguiti più sensati, se c'è un film Pixar che si presta a creare una saga è proprio Inside Out, perché parlando di la crescita di una bambina puoi veramente fare sei passafimi in cui esplorare l'intera vita della bambina, quindi appunto anzi bambina lì di undici anni, qui ne parleremo tra poco, ne ha tredici, puoi fare proprio liceo, università 30, 40, 50 anni, ti puoi fare, anche se andando di una decada alla volta puoi andare avanti per una decina di film, no forse così è un po' troppo però se te la giochi bene almeno sei film li fai tranquillamente e la cosa non suonerebbe per nulla forzata. Ora il primo Inside Out, ho fatto il Watchtogether un paio di settimane fa per parlarne anche un po', vi lascio il link in descrizione, appunto lo adoro, già in quel Watchtogether ve l'ho fatto vedere che ho qui la steelbook, ed ero molto curioso di vedere cosa avrebbero combinato con questi Inside Out 2, appunto le basi per andare avanti c'erano sicuramente. La cosa che più poteva lasciare straniti era che non c'era più Pete Docter alla regia ma qui c'era un esordiente, ovvero Kelsey Mann che ha il suo esordio quantomeno in un lungometraggio, ha fatto ad esempio un corto a tema Monsters University per la Pixar, però questo è il suo primo appunto lungometraggio. E di cosa parla il film? Il film segue appunto come il primo le vicende di questa ragazzina di nome Riley, anzi più precisamente più che di Riley, delle emozioni dentro la sua testa. Nel primo film, ricordiamolo, erano solo cinque, gioia, tristezza, che erano le due più approfondite attorno a cui ruotava tutto il primo film, e poi c'erano disgusto, paura e rabbia. Alla fine la vicenda del primo film si era chiusa in maniera positiva, ma c'era una cosa che lasciava presagire appunto un seguito, ovvero siccome Riley stava crescendo, nella sua testa, e in particolare nel pannello di controllo da cui le emozioni controllano le azioni di Riley, era sbucato fuori un pulsante chiamato PUBERTÀ, e non aveva voglia di dire, ahia, qui quando scatta succedono casini. Ed è esattamente il punto di partenza di questo film. Riley ha compiuto 13 anni, come accennavo prima, ormai è una teenager, e quindi il pulsante PUBERTÀ si attiva, e questo vuol dire che il quartier generale viene completamente rifatto, la console viene nuovamente modificata, e soprattutto sbucano fuori quattro nuove emozioni, ovvero ANSIA, INVIDIA, Imbarazzo e ENUI, che sarebbe NOIA, però qui viene dato questo nome francese, in quanto in originale è doppiata da un'attrice francese, ADEL ESCAPOLOU, non lo saprò mai pronunciare bene, insomma l'ADEL della vita di ADEL, da noi tra l'altro, piccola parentesi, portogliamo alla trama, è stata doppiata da DEVA CASEL, la figlia di Vincent Cansell e Monica Bellucci. Aiuto? Ne parliamo dopo. Comunque appunto, ci sono queste nuove emozioni, e cosa succede? Che in particolare ANSIA, siccome ha l'ANSIA, come dice il suo nome, di pianificare il futuro di Riley, questo si vedeva nel trailer, quindi non è spoiler, ha la brillante idea di fare un vero e proprio colpo di stato, per cui piglia le cinque vecchie emozioni, le imprigiona in un angolo della mente di Riley, e a quel punto cerca di creare una nuova Riley che si allontani dalla personalità che ha avuto finora, e appunto le vecchie emozioni dovranno combattere, diciamo, per riportare Riley a come era in origine. Ora, come dicevo appunto, l'idea di un seguito ci stava. Tra l'altro qui ci sta anche che venga fatta una cosa che a me solitamente non fa impazzire in questi seguiti d'animazione, ovvero partire a distanza molto ravvicinata dal predecessore. Pensate alla Pixar, sia gli Incredibili 2 inizia letteralmente il secondo dopo la fine del primo film, mentre la ricerca di Dory parte sei mesi dopo alla ricerca di Nemo, nonostante entrambi questi seguiti siano usciti ad almeno dieci anni a passa di distanza dal film precedente. Anche Toy Story 4 parte qualche mese dopo, credo, la fine di Toy Story 3, nonostante appunto sia sia uscito, mi pare in quel caso proprio a dieci anni? No, a nove anni di distanza dal film precedente. Quindi appunto, se nel live action sei obbligato a rispettare le tempistiche perché gli attori invecchiano di conseguenza, in animazione non hai questo limite e quindi ci si concede più libertà. Che da un lato appunto è un bene perché non sei costretto nei limiti temporali di un live action, però dall'altro lato a volte suona veramente assurdo, cioè che gli Incredibili 2, ok, se tu adesso li vedi, vedi gli Incredibili 1, gli Incredibili 2 di seguito all'altro, non ci fai troppo caso, però chi ha sentito la distanza tra gli Incredibili 1 dice, minchia ma non è cambiato niente. Il bello per dire di Toy Story 3, che non a caso ha insieme a Toy Story 2 il miglior seguito della Pixar, era che appunto di Toy Story 3 tu avvertivi di essere cresciuto come Andy proprio perché erano passati gli anni per lui come erano passati per noi. Inside Out in quest'ottica adotta la giusta via di mezzo, ovvero sono passati un paio d'anni, quindi non proprio il momento dopo la fine del film precedente, quindi almeno un po' di stacco temporale lo senti, e inoltre almeno quella cosa giustificata dal fatto che dovendo effettivamente raccontare le varie fasi di crescita, hai raccontato diciamo l'infanzia, adesso parti, inizi a raccontare appunto la pubertà. Quindi in questo caso ha senso, e già questo quindi era un punto sicuramente a favore del film. Perché diciamolo, a parte appunto i due Toy Story, e sottolineo i due perché poi c'è il quarto che ha più problemi, gli altri sequel Pixar, insomma vabbè, tralasciando Cars, che è un po' sempre stata la pecora nera della Pixar, è anche del periodo d'oro il primo Cars, è anche l'unico film che io non ho in Blu-ray per dire perché sì carino ma non all'altezza di tutti i capolavori da cui era circondato, ma appunto tralasciando Cars, in tutti gli altri casi i sequel Pixar erano magari bei film, se guardate le mie recensioni tipo della ricerca di Dory, Incredibile 2, io ne parlo anche bene, dico oh no sono molto contento, oh bravi l'hanno fatto bene, però appunto sono bei film, ma poi quando ci rifletti ti rendi conto che sì sono bei film ma non sono gram di seguiti, perché commettono tutta una serie di errori e la mia speranza era che questi errori non venissero commessi qui, appunto uno ce l'avevamo già evitato, quindi l'eccessiva vicinanza al film precedente, a livello temporale intendo, ecco un altro problema che hanno ad esempio sia Dory che gli Incredibili 2, e questo ci ho pensato ovviamente fredda, è che rappresentano sempre un regresso, cioè se guardi Marlin in Alla Ricerca di Dory è esattamente il Marlin di Alla Ricerca di Nemo ma che non sembra essere maturato e le dici ma come allora cosa è servito per il corso di maturazione in Dory. Gli Incredibili 2 sembrava che appunto i supereroi fossero stati di nuovo sdoganati, no vanno sdoganati e in più, cioè sostanzialmente c'era la stessa dinamica del primo film con appunto uno dei due genitori che doveva abbandonare, che lasciava la famiglia per fare il supereroe, però nel caso del primo film era il padre, nel secondo la madre, insomma stesse dinamiche reiterate, però tra l'altro senza neanche alcune cose che magari erano interessanti del film originale e anche qui la mia paura era ok non è che qui rischiamo di fare gioia che regredisce di nuovo a quella un po' egoista bla bla bla, fortunatamente questa cosa ce la siamo evitata, lo posso già dire, qui gioia ha fatto tesoro della lezione appresa nel film precedente e non assistiamo appunto a fastidiosi regrezzi. Grazie al cielo già questo è un punto più a suo favore. Sotto certi aspetti è vero che comunque questo film ripropone dinamiche già viste, però almeno qui riesce a rivisitarle in una maniera che non faccia sembrare troppo già visto, in che senso? Ansia col suo golpe è simile a gioia nel primo film, solo che nel primo film gioia era tutto sommato una capa brava ma che faceva cagare con un suo diciamo sottoposto, in realtà sarebbero colleghi, però vabbè si è sempre visto che gioia era leader delle emozioni di Riley cioè gioia aveva problemi solo con tristezza e appunto perché non sapeva cosa farsene qui appunto abbiamo ansia che fa la stessa cosa però appunto con tutte e cinque le emozioni e qui proprio cattiva, cioè nel senso lì piglia le imprigiona proprio male, cioè almeno gioia cercava un minimo di attenersi, no no proprio Riley, scusatemi, ansia stronza in tutto e per tutto, e già questo quindi si crea un conflitto sotto certi aspetti anche più interessante, però certo il fatto che vengano imprigionate poi debbano ritornare nella mente di Riley, cioè nel quartiere generale, questo lo si era già visto con appunto gioia e tristezza anche se qui appunto cercano di giocare un po' con certe dinamiche, apprezzabile in particolare il fatto che essendo che qui appunto sono tutte le cinque emozioni base a essere esiliate qui almeno si riesce a dare un po' più di spazio a tutte perché nel primo film ci si concentrava principalmente su appunto gioia e tristezza, almeno qui anche gli altri tre hanno occasione almeno in un momento del film di fare qualcosa, mentre appunto nel film precedente erano i tre i pirlotti che stavano al quartiere generale, sì facevano anche lì qualcosa però facevano più danni che altro, almeno qui ti viene mostrato un maggior lavoro di squadra nel momento di conflitto maggiore del film e quindi appunto i cinque protagonisti fanno un maggior lavoro di squadra le nuove emozioni sono tutte ben caratterizzate quindi anche questo complimenti, ci ho anche visto, non so se queste sono le mie sovralletture ma ci ho anche visto un piccolo messaggio politico poi ne parlo un attimo, ne parliamo meglio nella parte spoiler e ci ho anche visto una serie di cose che io interpreterei come stoccate alla Disney, anche al modo di fare alla Disney contemporaneo, anche qui non voglio entrare nel dettaglio, ne parliamo nella parte spoiler e sono tocchi che ho apprezzato, ho apprezzato molto anche il ritmo del film, è un film che scorre molto bene, un'ora e mezza che fila via come niente, è un film che tra l'altro dà più spazio proprio a Riley come personaggio nel senso che il senso del primo film era quasi tutto nella testa di lei e solo ogni tanto la vedevamo proprio la Riley del mondo reale, qui c'è un'alternanza maggiore anche perché per come la storia è strutturata si deve vedere molto di più come agisce Riley nel mondo reale in base a quello che appunto succede nella sua testa, il film continua appunto a mostrare vari turbamenti emotivi delle persone tramite appunto questa sorta di conflitto tra emozioni e tutti i casini che succedono all'interno, forse in maniera un po' meno efficace del precedente, banalmente perché si perde la novità, è un po' come Shrek 2 che è un bel film che continua in maniera era molto coerente il discorso di destrutturazione della fiaba visto in Shrek 1, però Shrek 1 aveva il fattore novità quindi Shrek 2 dici bello però le novità grosse le ho già viste però appunto si è mantenuta una certa coerenza, c'è un momento anche qui in cui si gioca con stili d'animazione diverse come nel primo c'era stato il momento in cui alcuni personaggi cambiavano forme in base a come funzionava una certa cosa, anche qui ci sono stili d'animazione diversa e anche quella cosa l'ho apprezzata, è anche molto divertente, si fanno appunto varie ironie anche sugli adolescenti, contemporanei eccetera, quindi lì funziona a livello di animazione, niente da dire, insomma la Pixar anche nei suoi momenti più bui a livello di sceneggiatura, a livello di animazione non ha ancora fallito e deo grazias perché il giorno in cui succederà questo saremo davvero davvero nella merda 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 il doppiaggio dai parliamone, si era un po' preoccupati perché? Perché le nuove emozioni erano tutti talent, appunto ho parlato lì della figlia di Monica Bellucci e sapendo quante cagni a Monica Bellucci tu dici madonna santa la figlia, Dio ce ne scampi, però una parte di me pensava, però dai la figlia di Paul W.S. Anderson e di Mila Jovovich che non sono, lui non è un gran regista, non è una grande attrice, quel poco che l'ho vista recitare tipo in Peter and Wayne, nel di là della qualità del film, lei secondo me è un'attrice promettente, quindi dai magari anche in questo caso succede, sì, lei ci sta, non mi ha minimamente infastidito, ma anche le doppiatrici di invidia e di ansia non mi sono affatto dispiaciute, a doppiare ansia tra l'altro è Pilar Fogliati che abbiamo visto recentemente in If, doppiava anche lì una degli amici, l'amica immaginaria principale dopo Blue e lei non se la cava male nel doppiaggio quindi mi ha fatto piacere sentirla e anche invidia è doppiata da un'attrice comica italiana ovvero Marta Filippi e anche lei ci sta, tra l'altro vedo che anche qui lei ha già doppiato qualcosina prima, quindi insomma gente che ci sa fare, quello più problematico è Federico Cesari che doppia imbarazzo, lì è proprio quello che si sente che è un talent, ma è un personaggio che dice due frasi in tutto il film e quindi il fastidio dura poco. Ironicamente l'unico doppiaggio che mi ha convinto poco è stato quello di Riley che la doppiatrice è una doppiatrice, si chiama, devo rileggere il nome, Sara Ciocca e ho appena, ho da poco avuto modo di apprezzarla al doppiaggio in Abigail, doppiava la bambina, lì era brava, qui non lo so, non mi convinceva. Forse perché ha una voce iper diversa dalla Riley del film precedente e essendo appunto, è vero che per carità crescendo la nostra voce cambia, ma Cacchiarola veramente sembra un'altra persona, forse è quello, mi ha straniato questo effetto qui di voce diversa, perché ripeto, lei è una brava doppiatrice, in Abigail l'ha dimostrato, ma ho visto, ho fatto anche varie cose, quindi è brava. Boh, lei è l'unica che mi ha lasciato così, per il resto è un bel doppiaggio, cioè per dire adesso non l'ho visto in originale, quindi poi giudicherò a tempo debito, però vi dico, se Elemental l'ho visto in originale, Deograzias l'ho visto in originale, ho visto qualcosina in italiano e madonna santa se perde tantissimo in italiano, questo è un film che invece in italiano regge, quindi andatelo a guardare doppiato senza troppi problemi. Tra l'altro ho parlato prima di straniamento per un cambio di doppiatrice, forse in America è peggio, dovrei sentire anche lì le voci per capire quanto sono stati bravi a camuffarsi, perché disgusto e paura, se non sbaglio, hanno cambiato i doppiatori, perché per una disputa di paga i due doppiatori non sono tornati, quindi paradossalmente noi abbiamo anche un doppiaggio più coerente, perché da noi hanno mantenuto tutti i doppiatori del film precedente. Tranne Riley, però sia chiaro, un po' li capisco, nel senso, sono passati nove anni, è chiaro che la doppiatrice di Riley nel primo film non può avere la stessa voce, o comunque anche lì ce l'abbiamo avuta troppo diversa, quindi hanno provato a cambiare con un'altra, però secondo me l'effetto straniante un po' rimane. Quindi insomma è un film che secondo me ha molti pregi e che assolutamente consiglio, trovo un buon film. Ci sono dei difetti? Qualcuno sì, è un film che io ritengo inferiore al primo. Chissà se andando avanti, riflettendoci, questi effetti appunto, questi difetti avranno la meglio e me lo faranno un po' svalutare, come mi è già successo con altri sequel Pixar, però per ora il mio comunque è un giudizio piaciuto, ma con appunto alcune cosucce. Allora, manca il momento emotivo grosso alla bongo, c'è però da dire questo, questo non so se considerarlo un difetto perché ok, se non lo metti, lo senti una cosa in meno rispetto al primo, però se avessero provato a metterlo sarebbe rischiato di essere un agar e dovuto rimettere il momento alla bongo, quindi questo è un difetto fino a un certo punto, mettiamola così. I problemi sono principalmente un paio di passaggi che si risolvono un po' in fretta, nel senso, ci sono un paio delle emozioni protagoniste che hanno un piccolo alterco tra di loro, tempo due secondi l'alterco si risolve e dici così velocemente, ok c'è un dialogo che dovrebbe lasciarlo intendere, ma è un po' veloce, cioè doveva essere sviluppato un po' di più per farti dire, ah ok, questa hanno risolto l'alterco, è un pochino rapido in alcuni punti. Inoltre, sebbene da un lato mi piaccia vedere di più Riley, il fatto che appunto te la devi giostrare tra le emozioni che devono tornare, le emozioni fuori dal quartiere generale, le emozioni dentro il quartiere generale, questo succedeva anche nel film precedente, e in più c'è molto Riley che interagisce con altri personaggi, quindi un pochino vedi anche, devi anche fare questi altri, insomma c'è tanta gente quindi il film risulta più pieno, il film precedente era un po' più asciutto, questo purtroppo è un problema tipico dell'animazione, soprattutto occidentale per bambini, perché ad ogni film tu aggiungi vari personaggi, ma siccome poi non puoi toglierli di mezzo, a un certo punto non sai più cosa fartene, guardate due esempi della DreamWorks che però ci stanno, Kung Fu Panda e Dragon Trainer, nei primi film tu hai 5 cicloni per Kung Fu Panda e i compagni di addestramento di I.K. nell'altro, hanno un senso, hanno un ruolo, man mano che va avanti nei seguiti non sanno più cosa farsene, perché tanto si devono concentrare sul protagonista e il loro ruolo di appunto compagni di addestramento o di scuola, sia di podicap, non c'è più e quindi perdono un po' di senso. Qui per ora il senso di tutti i personaggi rimane, vedremo in un eventuale Inside Out 3 che penso faranno, perché il film sta facendo sfacieli di incassi, sarà... a fine corsa sarà probabilmente il miglior incasso dell'anno, almeno per ora, vediamo se poi qualcuno lo batterà, cosa che tra l'altro mi fa un po' felice, un po' no, ma magari ne parliamo come chiusa. Appunto, tornando al film, ok, c'è questo problema di... c'è il rischio di troppi personaggi, vedremo andando avanti. Il problema più grosso però, secondo me, è che è un film più di da scalico del precedente. Il bello del primo Inside Out è che non ti faceva troppo la morale, cioè la morale di Inside Out, ovvero la tristezza è necessaria, non ti veniva detto, ti veniva fatto capire. Qui ci sono un paio di punti in cui adesso ti spieghiamo la morale del film, perché nel cinema contemporaneo dobbiamo spiegare tutto, peggio che nel cinema classico degli anni 30, che pure quello doveva essere la prova di scemo, ma adesso anche peggio non si sa bene come. Cioè, per dire, vi faccio due esempi. Uno non è spoiler, l'altro lo camufferò per evitare lo spoiler. Esempio uno, come ho detto, Gioia ha imparato la lezione dal film precedente. Il problema è che tu questa cosa la vedi perché a un certo punto fa una cosa che dici, ah ma guarda, ha imparato la lezione dal film precedente. Qualche sequenza dopo, Gioia proprio dice, ho imparato la lezione dall'ultima volta, e io ero lì. Ma non serve che lo dici, me l'hai mostrato efficacemente, va bene se la prova di scemo, che è per bambini, ma porca miseria. Cioè, no, così è troppo. E poi anche proprio la morale finale, appunto. Cioè, se Inside Out 1 fosse stato fatto come questo, noi avremmo avuto il momento di Riley che si sfoga con i genitori, l'abbiamo visto, e poi dopo Gioia che dice, eh, adesso ho capito che la tristezza è importante, che non posso, che non può esserci sempre solo Gioia, siamo tutti ugualmente importanti, e quindi d'ora in poi permetterò di più agli altri di lavorare, soprattutto la tristezza e bla bla bla, e io ero lì. Cioè, io sarei stato lì a dire, sì, ok, non c'era bisogno. Questa è la cosa, ti viene detta la morale io, ma l'ho capita, non c'è bisogno. Cioè, finché spiega bene, sa parlare bene per immagini, non c'è bisogno che poi lo reiteri. Cacchiarola, è una ridondanza inutile. E voi direte, vabbè, sono un difettuccio, in fondo hai parlato più di cose buone che cose negative. Sì, però qui c'è il fatto che, appunto, sei il sequel di uno dei più bei film della Pixar, e appunto, qui si tratta di difetti che, appunto, contrastano con alcuni dei pregi del film precedente. Cioè, cacchio, il bel... Hai un film che è bello perché, sì, ti dice qualche moralettina ogni tanto, il primo installato Nintendo, però per la maggior parte è un... Parli soprattutto tramite le immagini, le azioni dei personaggi, eccetera. Qui, nel momento in cui senti il bisogno di essere più specie, tu dici, ma no, dai, cioè, senti proprio un dislivello qualitativo in questo caso. Non è terribile, ripeto, secondo me rimane un gran bel film. Per adesso poi vediamo, appunto, ma questo è quello della Pixar, non mi fido più di me stesso. Quindi ponete questa cosa con le pizza, però è allo stato attuale. Questo dico, e non è che posso far passare, ma in generale, probabilmente, se voi guardate, sia i miei video, o recensioni anche dei più grandi critici professionisti, molti hanno sicuramente cambiato idea su certi film rispetto alle prime impressioni. È normale, però il punto qual è è che se il film esce, tu il tuo parere lo devi fare, cioè, uno il parere lo vuole sapere subito degli esperti, non è che può aspettare, ah, guarda, magari mi sbaglio, vediamo andando avanti, quindi, cioè, è un po' un rischio che tutti ci accogliamo, chi ne parla, sia appunto che sia uno che fa semplicemente video per YouTube o critici proprio professionisti, o appunto gente semplicemente tranquilli, cioè, nel senso, o appunto chi esperisce dei film e deve stare attento al fatto che magari sta leggendo o guardando il parere di qualcuno che potrebbe cambiare idea. Tornando sulla questione incassi, perché un po' sono contento e un po' no? Sono contento anzitutto perché minchia quest'anno il cinema sta boccheggiando a livello di incassi in una maniera agghiacciante. I tre film in top incassi finora, in attesa che Inside Out li superi, sono Kung Fu Panda 4 più di 500 milioni, Godzilla e Kong più di 500 milioni, di un parte due più di 700 milioni. Cazzo è terribile. Se pensate che l'anno scorso i tre film di maggiori incassi a meno il miliardo l'avevano superato, no, due, perché Oppenheimer ce l'ha dato vicino però. Cioè, qui veramente, siamo alla canna del gas. Quindi se arriva un film che in un weekend, uscendo tra l'altro neanche in tutto il mondo ma sono in parte, ti fa quasi 300 milioni, però dall'altro lato il punto è noi vedendo questo risultato ma possiamo andare contro le major che dicono cioè che fanno sempre solo seguiti? Cioè pensateci. Io spesso vedo su Facebook gente che pubblica risultati di sondaggi secondo cui abbiamo intervistato le nuove generazioni, sono stufi dei seguiti, vogliono storia originale. tutti, visto, visto major vuoi che non capite niente? Ascoltateli, ascoltateli. Sì, vogliono storie nuove. Però cosa ho appena detto? Top 3 di incassi, Kung Fu Panda 4, Monsterverse 5, chiamiamolo così, Dune 2. E adesso a salire in top, quindi la top 4 appunto, 4, 5, 2 e un altro 2, cioè Inside Out. Ecco, cioè, non li volete, non volete storie nuove? E, cioè, ok, volete storie nuove? Quando uscirà il Robo Selvaggio, vi voglio tutti al cinema, voi che volete storie nuove? Faccio un esempio. Appunto, visto che sembra che il film di maggiore incasso per un po' sarà un film d'animazione, vi voglio tutti a vedere quello, storia originale. Se il Robo Selvaggio incasso almeno di Inside Out 2, mi dispiace, allora cosa andiamo contro le Major? E c'ha ragione. Cioè, a me non piace che c'è Iger, che io ho sempre criticato Iger perché ha detto, eh sì, abbiamo fatto troppi seguiti, un paio di mesi dopo, ci concentreremo molto sui seguiti. Ma sei scemo? Schizofrenico forse, non lo so. C'è un twist. Però, guardi i numeri e c'ha ragione lui. Oceania 2 incasterà uno stonfo? Rispetto, beh, per carità, Wish ha avuto tutta una serie di problemi a livello di, cioè, perché non è incassato, però. Cioè, il problema poi lo si è anche discusso, il problema è che la gente adesso non ha proprio voglia di uscire di casa e andare al cinema. La pandemia ha accelerato questa cosa, ma in generale siamo in una cultura, l'ho sempre detto, a cui non piace uscire. Ci sono una marea di poste, di gente che si vanta di dire, ah che bello, stare al calduccio, sotto le coperte, con fuori che piove, magari col tuo moroso accanto, che è una bella immagine, per carità, sono assolutamente d'accordo, però se si continua a dire che è bello solo, stare a casa, stare a casa, stare a casa, poi io ho aggiunto il moroso, ma c'è anche chi che è contento di stare a casa da solo, anche lì ci sta benissimo, per carità, però quello che io dico io è, se tu continui a dire che è bello stare a casa, che è bello stare a casa, poi, eh, ma perché la gente non vuole andare al cinema? Secondo te? Cioè, voglio dire, è lo streaming brutto e cattivo, però se tu continui a incoraggiare un qualcosa e dici stai a casa, c'è lì lo streaming, ma va? Ma va che poi la gente sta a casa? Ma per carità, io stesso esco più che altro per andare al cinema, quindi, o andare qualche volta alle fiere, quindi non è che io faccia mille e mille uscite, però, io almeno non mi metto a fare posta che dicono che è bello stare in casa, perché sennò appunto, poi quando mi lamento che la gente non va al cinema, sarei un'ipocrita di merda, e invece, no, c'è questa cosa, e quindi, ripeto, contento per le sale, però poi non lamentiamoci che fanno solo seguiti se incassano solo quelli, se poi Robo Selvaggio floppa, sono anche un po' cazzivostri, che poi anche lì incassano i seguiti fino a un certo punto, perché poi arrivano le scimmie furiosa, quindi, cioè, siamo in un periodo in cui veramente non c'è una regola, non c'è una formula vincente, cacchio, paradossalmente mi manca il 2019 quando tu ti andrei a dire che palle, incassa solo la Disney con Marvel e la live action Disney, ma almeno lì sapevi che qualcosa incassava, se sono in casa un cazzo, devi proprio sparare a caso, minchia, mi mancano i tempi in cui cassa il re leone, il remake intendo, ma siamo pazzi, mi sta venendo a me l'ansia per il cinema, porca troia, vabbè, vabbè, detto questo appunto, tornando a Inside Out due nello specifico e tirando le somme, un buon sequel, non all'altezza dell'originale, ma che comunque riesce a portarlo avanti in maniera tutto sommato coerente, con delle cose interessanti, ripeto, un buon ritmo, peccato appunto per i difettucci quella che ne elimino la riuscita completa e totale, ma non è assolutamente un film che sconsiglio. Detto questo appunto, facciamo qualche spoiler perché ci sono un po' di cose da dire, quindi saluto chi il film ancora non l'ha visto, io tra l'altro l'ho anche visto un giorno prima perché nonostante l'uscita fosse il 19 giugno in alcuni cinema tipo l'Arcade di Melzo dove ero io, lo hanno dato comunque il giorno prima in anteprima, che poi alla te è uscita anticipata perché l'hai fatto uscire semplicemente un giorno prima, quindi appunto come molti di voi non l'avranno ancora visto andatelo a vedere, per chi di voi appunto non l'ha visto ci salutiamo qui, se il video film vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete e tornate quando avrete visto il film, mentre invece per chi l'ha già visto o se ne frega degli spoiler, 5, 4, 3, 2, 1, spoiler, partiamo da quello che dicevo io, messaggi forse politici, in realtà un po' l'ho detto anche nella parte e non spoiler, questo film è un colpo di stato, cioè arriva Hansia che prende il potere spodestando i sovrani precedenti, mettiamola così, li fa imprigionare e poi loro devono tornare a riprendere il loro posto e il tutto con la scusa del lo faccio per il bene di Riley, perché Riley deve essere al sicuro, no, il mandare via la guardia più, la vecchia guardia, quella un po' più calma, diciamo, non vorrei dire progressista, quella più tranquilla che appunto vuole essere brava in nome appunto della sicurezza e quindi bisogna accettare dei compromessi, roba di questo tipo, non so, io ce l'ho vista un po' questo modo di pensare di certi correnti politiche che appunto con la scusa del lo facciamo per il bene per la sicurezza mandano via gente, appunto li fanno sparire in quel caso nel subconscio eccetera, subconscio nel caso delle emozioni, prigione e segrete nella vita reale, ma lasciamo perdere, comunque non lo so, ditemi voi se ho esagerato io o se potrebbe essere una cosa che magari hanno messo senza neanche volerlo, cioè hanno pensato il film in questo modo e involontariamente sembra una appunto una piccola satira politica. Parlando del momento gioco con l'animazione, appunto quando le cinque emozioni originali vengono imprigionate nella parte più oscura della mente di Riley, c'è questo esserino di un programma per bambini che è chiaramente ispirato a Dora l'esploratrice, ora, visto la generazione di cui sono io, ho pensato più alla melevisione, no, Tonio Cartogno, insomma quei personaggi che rompono la quarta parete rivolgendosi ai bambini dicendo ciao bambini io sono Tonio Cartogno, Dora l'esploratrice, sono vostro amico, anzi parlano in seconda persona quindi ciao bambino o bambina sono tuo amico io o tua amica nel caso di Dora l'esploratrice che devo dire a me questa cosa fin da bambina è sempre inquietato perché io ero lì che pensavo ma chi ti conosce? Più che altro perché ti si rivolgeva fin dall'inizio come se foste i migliori amici del mondo e tu sei lì che dici ma io non so neanche chi sei paradossalmente mi trovavo cioè era molto meglio per me vedere una storia su schermo e immaginare io di entrare e poi fare amicizia io ma addirittura che questo già parlasse con me come se mi conoscesse mi faceva un po' mi fa morire il personaggio in sé il fatto che appunto sia un programma che Rai li adorava da bambino e che adora ancora tutti noi abbiamo quei programmi o comunque quelle cose che ci piacevano da bambini che in realtà ci piacciono ancora ma dirlo è un po' imbarazzante soprattutto nell'età d'adolescenza in cui queste cose dovresti tirarle via infatti il fatto che a me piacesse l'animazione al liceo non è che lo andavo in giro sbandierando adesso ne parlo senza alcun problema per dire comunque la cosa più fantastica è il suo marsupio parlante da cui tirano fuori a un certo punto la dinamite e con le conseguenze di cui parleremo dopo mi ha fatto morire quello mi ha fatto morire il personaggio da videogame anni 90 che ha la stessa grafica eppure lo stesso modo di parlare che è una delle prime crash di Rai ed è bellissimo vedere disgusto che lo guarda con gli occhi a cuoricino mi ha fatto morire anche poi il fatto che sia figo e tutto il resto ma in realtà è un attacco di merda cioè diventa una pallina e si è ruotola così a caso bellissimo tra l'altro come poi mette capo alcune guardie che devono inseguire appunto i nostri eroi in quel modo comico io sono divertiti da matti in quella scena a tra l'altro appunto tornando un attimo alla cosa politica polizia segreta appunto il momento in cui si vede che nell'immaginario di Riley c'è questo momento con tutti i cosini della mente di Riley che stanno disegnando a raffica i possibili i possibili risvolti negativi della mente di Riley che fa molto il grande fratello ti osserva con questo schermo tramite cui lei controlla tutti questi suoi lavoratori dipendenti tutti schiacciati inscatolati e tra l'altro c'è anche un riferimento parlando di grande fratello a un famoso spot di mi pare degli anni 80 in cui della Nike in cui per celebrare 1900 cioè in cui per fare burocita alla Nike la si vendeva come la scarpa che ti rende libera alla faccia di 1984 perché quelli appunto erano i anni in cui era ambientato il romanzo e quindi che cosa succede che a un giorno punto rabbia rompe lo schermo lanciandovi adosso qualcosa come succede appunto nella pubblicità che ho appena detto tornando appunto alla questione animazione appunto bello appunto il tipo animato in 2D e il personaggio dei videogiochi animato tutto pixelato e poi c'è lo scuro segreto di Riley che verrà rivelato nella post credit ovvero che Riley cos'è stato una volta ha bucato un tappeto sì era ovvio che sarebbe stato lo segreto del manga tra l'altro il personaggio è paurosamente simile per non dire quasi identico a il buio di orio nel buio film per la dreamworks uscito su netflix a inizio anno scritto da Kaufman che l'ho detto a me non è che abbia convinto granché quel film però tralasciando il mio giudizio ho visto simili questi due personaggi qualcuno qui deve citare qualcun altro per plagio probabilmente è una coincidenza però fa ridere che a pochi mesi di distanza escano due esseri così simili ecco che appunto quel pezzo lì mi ha fatto morire bellissimo anche che alla fine rabbia ce l'abbia lì come su massuppi ecco se nel primo film la mia emozione preferita era a disgusto perché era l'unica con un po' di salinzucca in quel quintetto di psicopatici qui ho apprezzato molto rabbia un po' di momenti rabbia che lo fanno risaltare parecchio tra cui appunto lui che risolve la situazione col marsupio e tra l'altro questa cosa aiuta anche perché era stato soprattutto rabbia fare la minchiata del primo film che stava privando Riley delle sue emozioni lo stava facendo a fin di bene però insomma tutti a dire gioia ma anche rabbia ha avuto le sue colpe però di 10 giorni dovrebbe essere un po' più assennata di rabbia qui appunto rabbia si si sistema questa cosa mi è cioè si redime un po' questa cosa mi è piaciuta e guardando il film soprattutto vedendo Imbarazzo non ho potuto non pensare ma questo è come Wish doveva essere nel senso chi ha visto Wish c'è questo personaggio che a un certo punto cioè che tradisce la protagonista poi si redime se ci pensate bene Imbarazzo è un po' quello non è il protagonista cioè questo personaggio molto timido che poi a un certo punto riesce a redimersi solo che qui è fatto veramente molto molto meglio Imbarazzo l'ho adorato credo che sia delle nuove emozioni quello che mi sta più simpatico e tra l'altro oltre alle quattro nuove che ho detto prima c'è anche nostalgia che compare ogni tanto e per quanto mi abbia fatto sorridere poi ci tornerò un attimo su nostalgia mi viene da pensare una cosa ma Riley non aveva detto nel primo film che aveva nostalgia di casa quindi perché non è sboccata fuori lì nostalgia sì abbiamo capito che questa cosa che le emozioni arrivano non sono tutte lì assieme serve per far andare avanti la trama per carità gli inside out sono film molto metaforici ma se stai a pensarci un attimo non tornano certe cose cioè ma per dire ma anche solo ansia si vede proprio che paura adora ansia e infatti ho pensato ma non serve ansia come emozione cioè già paura di fatto è una manifestazione cioè semplicemente l'ansia dovrebbe essere paura che prende il sopravvento sulle altre emozioni evidentemente non volevano fare uno dei protagonisti vecchi che faceva così però per dire è quello tra l'altro parlando di emozioni cioè parlando del character design delle emozioni nel primo film molti avevano ipotizzato che Riley potesse essere non binaria quindi o lesbica insomma appartenente alla comunità LGBTQ plus perché perché le emozioni di tutti gli altri personaggi erano identiche cioè erano molto simili tra loro e lei invece aveva delle emozioni molto diversificate in particolare c'era la differenza tra maschi e femmine cioè paura e rabbia sono palesemente maschi qui abbiamo imbarazzo che è un maschio anche lui mentre invece tutte le altre emozioni sono ragazze e quindi dici ma non è che vuol dire che in realtà la suonatura sessuale non è binaria appunto potrebbe essere ora in futuro potrebbero anche metterlo ma la verità è che questo non è un indizio sufficiente è vero tutte le altre emozioni in tutti gli altri personaggi sono simili ma questo è semplicemente una cosa tipica appunto dell'animazione nel senso metti il gruppo di personaggi principali diversificato e poi tutti gli altri per non doverti inventare 20.000 design diversi che poi devi anche tenere a mente che poi devi anche tenerti a mente si fa molto prima a fare gli altri tutti uguali poi sai che casino anche doverli disegnare tutti diversi quindi io quella la vedo semplicemente come un'ingenuità necessaria affinché la storia progredisca è anche un modo migliore per distinguere le emozioni perché appunto hanno tutti aspetti molto diversi anche il fatto che ci siano maschi e femmine secondo me è solo quello poi se lo vorranno sfruttare in futuro bene però non lo metterei come indizio così preponderante della cosa che poi una cosa interessante è che non ci avevo mai fatto caso per quanto in realtà sia ovvia gioia è l'unica con più colori cioè guardateli lui è tutto rosso lei è tutta verde cambiano solo le gradiazioni lui è tutto viola lei è tutta blu azzurra insomma appunto cambiano solo le gradi lei invece è gialla e coi capelli azzurri appunto col colore di tristezza quindi come dire la pura gioia non esiste c'è un po' di tristezza già insita nella gioia stessa ok ecco visto che si parla di gioia una cosa che non mi ha fatto impazzire è che ci sono un po' di punti in cui gioia si deprime prima di arrivare alla soluzione finale sono fin troppo simili alle dinamiche che abbiamo visto nel film precedente e non colpiscono più perché nel film precedente vedi appunto gioia sempre sicura di sé che poi a un certo punto mostrava delle insicurezze qui però le insicurezze sappiamo già che le ha quindi non ecco quando le rimostra dici ah sì lo sappiamo non c'è bisogno che ce lo fai rivedere poi altre cose da dire appunto ansia comunque alla fin fine è una gioia 2.0 perché appunto qui fa il golpe vuole essere lei a controllare tutto di Riley ma se appunto il problema ecco se il problema nel primo Stade Out era che a un certo punto gioia non c'era più e quindi Riley era un po' fregata qui è il fatto che ci sia solo ansia e la presenza ossessiva di ansia lì a rendere problematica a Riley perché appunto è talmente preoccupata che fa anche cose che non dovrebbe fare mi piace molto come si vede lì lei quando deve rubare quando vuole sbirciare sul taccuino tutti i suoi dubbi la sua tristezza perché si rende conto che sta infrangendo le regole mi piace mi piace molto l'alternanza di cosa succede nella testa e poi le emozioni che Riley prova e sono tutte emozioni molto molto credibili ed è anche bello vedere alla fine cioè non è bello in sé cioè è fatto molto bene l'attacco di panico di Riley quando lei si rende conto di aver fatto del male alla sua amica tanto che era ossessionata dal vincere e quello mi è piaciuto veramente molto ecco approfittiamone appunto per parlare di quelle che potrebbero essere le stoccate alla Disney contemporanea intanto appunto oltre alla questione politica di 1984 degli animatori costretti a disegnare a raffica condizioni di lavoro non proprio eccelse mmm non è una certa polemica che è uscita soprattutto l'anno scorso che si è in ambito Sony per Spider-Man across the Spider-Verse e forse cioè ma in generale nell'animazione occidentale questi problemi ci sono con gli animatori quindi dalla stoccata a quello potrebbe essere e ecco nostalgia il fatto che si percuri la nostalgia su cosa si basa tantissimo la Disney attuale ecco e poi appunto Riley Riley è una protagonista femminile il film parte che Riley è brava altruista coraggiosa dicono solo cose belle e le dici ah solita protagonista Mary Sue che è un timeline che secondo me è anche abusato però comunque quello che dicono tutti ah la Disney fa solo Mary Sue anche qui Riley è bella perfetta perché è una ragazza e bla 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 no alla fine viene fuori che Riley nel corso del film commette vari errori di cui comunque poi si pentirà per carità e alla fine la morale sì Riley è brava coraggiosa altruista ma può anche essere egoista può avere dei difetti quindi anche qui potrebbe essere una stoccata sul fatto che appunto non devi fare per forza un personaggio femminile perfetto per renderlo un bel personaggio forse sì forse no io vi butto lì lì poi ditemi voi se siete d'accordo o meno voi direte beh scoperto l'acqua calda anche gioia è così sì per carità però sai com'è gioia non essendo umana uno potrebbe fare il distacco Riley è umana non ci avete scuse ecco c'è da dire mi piace il design di Riley come l'hanno evoluta perché l'hanno resa una ragazza sì carina ma non super mega bella il fatto che abbia l'apparecchio ai denti secondo me ci sta molto se avessi visto il film alla stessa età di Riley l'avrei considerata probabilmente una mia crush tra l'altro parentesi divertentissimo il monte crashmore in cui c'è anche il personaggio di videogiochi con disgusto che ha occhi solo per lui e tra l'altro si vede anche in uno di quelli il ragazzino che si vedeva alla fine del primo inside out e che era anche protagonista del corto il primo appuntamento di Riley qui non compare mi sa che la cosa non è andata in porto non che sia un problema è però così giusto per farlo notare e appunto quelle secondo me sono le stoccate alla Disney parlando di cose singole eh ho adorato quando ero sbucata fuori la pubblicità del cos'era del dentifricio che si sentiva tantissimo nel primo film qui si sento una volta sola ma basta sono contento che l'abbiano messa va benissimo carino poi tipo questo si vedeva anche nel trailer che ora l'isola della famiglia sia piccola così e sia molto più alta la l'isola dell'amicizia proprio perché Riley sta cambiando sta crescendo bello che la nuova console sia ipersensibile cioè quando un'emozione anche di quelle vecchie la tocca Riley esagera che chiaramente è un'idea degli iscriviti morali cioè quando disgusto la tocca Riley anziché dire puzza un po' dice sono troppo orribile per andare al campus da qualsiasi altra parte che effettivamente appunto sono gli esagerati sbalzi d'umore adolescenziali quello ci sta e appunto parlando della morale finale qui la morale è una persona non può essere solo perfetta devi anche accettare di avere dei difetti e appunto da un lato è bello però appunto ti viene mostrato bene con ansia che butta via la vecchia Riley che è tutta perfetta mette fuori la nuova Riley che però è tutta ansiosa e cioè che è solo difetti e anche questa eccessiva insicurezza non va bene però nel frattempo dopo la valanga che è stata provocata con i brutti ricordi che cominciano a formare delle convinzioni gioia si rende conto che anche quelli vanno tenuti e quindi si forma questa nuova Riley che è un po' positiva e un po' negativa certo anche qui è un po' una ripetizione del film precedente la gioia deve potersi mescolare la tristezza e tutte le emozioni devono potersi combinare qui vari tratti della personalità si devono poter combinare già visto però ci sta è una cosa assaggia anche questa ed è coerente con lo spirito di Inside Out quindi mi sta bene è coerente sempre con Inside Out che anzi alla fine si redima però visto che nel cinema di animazione contemporaneo i cattivi mancano sarebbe stato carino tenerla come cattiva fino alla fine però il concetto di Inside Out e tutte le emozioni servono anche quelle negative anzi ricordiamoci allo stato attuale l'unica emozione che noi consideriamo positiva in Riley è gioia perché tutte le altre sono emozioni che di base noi consideriamo negative paura disgusto rabbia tristezza imbarazzo ansia invidia noia nessuna di queste è belle ah fantastica noia che c'ha il cellulare dell'unica che può attivare il controller a distanza carinissima la gag lì del sarcasmo che crea voragini e addirittura se tu parli dall'altro lato della voragine il tono viene rifatto come se fosse sarcastico quella cosa lì mi ha fatto morire anche il fatto che debbano ripercorrere a un certo punto la stessa tappa che hanno fatto gioia e tristezza nel primo film ma siccome Riley sta cambiando stanno ricostruendo tutto e quindi devono un attimo sistemarsi ecco una cosa che non mi ha fatto impazzire Riley che cerca di salire per vedere dove andare c'è rabbia che le dice ah tu stai delirando gioia dice si sto delirando perché non è facile essere sempre positivi e rabbia tranquilla gioia noi ti seguiremo sempre ma lei è piena dato della delirante un secondo fa ok che gioia ha messo il sorore eccetera ma è stato un po' troppo veloce dinamica che dicevo che accennavo nella parte senza spoiler ecco anche lì bella come tratta una dinamica di Riley che vuole farsi nuove amiche perché quelle vecchie andranno in un'altra scuola e lei ha paura tanto sta povera Riley non riesce a tenere amicizie che se ne vanno via l'amica del primo film che poi tra Riley si trasferisce e quindi via qui quelle che cambiano scuola e mannaggia povera Riley ma lasciatele tenere un'amica ogni tanto poverina e comunque ci sta nella vita si perdono le amicizie può capitare che si perdono le amicizie dell'infanzia comunque mi piace che la campionessa di cui lei è super fan non si rivelia alla fine la solita snob cioè anche lì sarebbe stato carino come antagonista però hanno evitato almeno il suo altro stereotipo del sono la campionessa quindi sono snob e guardo tutti dall'altro in basso no qui si vede che è una brava ragazza anzi sono più le altre amiche che le mettono pressione e dice ma per favore ma non fatele venire i complessi che poi è che è controproducente questa cosa mi è piaciuta non mi è piaciuto invece parlando appunto dell'eccessivo didascalismo allora c'è gioia che porta tristezza giù nel tunnel delle convinzioni e c'è tristezza che dice no io ho paura di andare lì e se facessi un disastro ma no tristezza cosa dici tu non fai disastri cioè la gioia del primo inside out questa cosa non l'avrebbe mai fatta quindi dici brava sei maturata ottimo poi appunto c'è il momento in cui lei manda su tristezza al quartiere generale per fare da infiltrata e dice eh tristezza mi fido di te ho capito che tu sei importante eccetera sì ma il semplice fatto che tu uno la mandi su e due l'hai portata giù nel subconscio prima cioè dove nascono le convinzioni è già lì segno che hai capito che hai imparato la lezione non c'è bisogno che lo ridici e anche appunto quando dice eh dobbiamo amare Riley anche con tutti i suoi difetti sì nel momento esatto in cui hai creato questa sorta di Riley con più sfaccettature l'abbiamo capito non lo devi ridire mannaggia si capisce va bene se una prova di scemo ma cazzo così è veramente eccessivo poi ecco una cosa del trailer nel trailer si vede la mid credit cioè i genitori che chiedono a Riley come ha dato il campo perché tutta la storia è tutto su questo campo di tre giorni basato sull'hockey e mi viene da dire cioè la Disney ha spoilerato così tanto ma in realtà paradossalmente ci ho pensato spoilerando non ha spoilerato perché tu pensi ah ok magari sta cosa del campus dura tre giorni cioè dura poco nel film e poi tutto il resto è la vita scolastica di Riley e invece non me lo aspettavo quindi cosa interessante come non spoilerare spoilerando e che altro dire no mi sembra che sia più o meno tutto le cose principali sono queste ovviamente ci sono i commenti per raggiungere qualcosa se volete quindi il video finisce qui grazie per averlo seguito come sempre se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate e ci vedremo a un prossimo video ciao ciao ragazzi